Mi presento, sono Regina, faccio parte di questa associazione e intanto premetto che non sono di queste parti ma sono di Modena e Raffaele diceva prima che sono la più competente, non è vero, semplicemente ho per un anno praticato in un'altra associazione appunto a Bologna presso uno sportello informativo per i migrati, quindi comunque sono stata molto a contatto con queste persone, lo aiutate comunque a fare premium, a ricercare lavoro, comunque cose abbastanza pratiche, in più un post italiano eccetera e niente, mi ritrovo in questa situazione appunto perché a parte Francesco è il mio ragazzo e ci ha comunato appunto, scusate l'imbarazzo Padre Antonio appunto ha cercato di convergere le nostre idee dato che comunque io ero un della scettica a livello di beneficenza eccetera perché è un altro pensiero, però è riuscito comunque a cucire tutti i nostri pensieri e niente, adesso mi trovo qui, vivo comunque sempre a Modena, spero quindi di dare un supporto comunque a questa associazione anche se non sono qui, di queste parti ecco. E niente, passo, io sono molto breve, confidando, passo a Emma.